Ho accettato con piacere di parlarvi dei cambiamenti climatici avvenuti in Italia, ma anche nel nord Europa, soprattutto negli ultimi 10-20 anni. Parlerò soprattutto dei cambiamenti climatici avvenuti in estate, perché si sa, l'estate alla stagione del turismo di massa e le nostre città d'arte e le nostre coste sono prese di assalto dal turismo in arrivo soprattutto dal nord Europa. Allora ci poniamo la domanda, i cambiamenti climatici possono essere un motivo in più per visitare l'Italia? Allora entriamo nel vivo del tema. In estate i protagonisti del clima in Europa sono tre anticicloni, anticicloni che sono sinonimo di bel tempo ma anche di caldo in estate. Il mite e gradevole anticiclone delle Azorre è due roventi anticiclone di origine desertica, l'anticiclone nordafricano di origine sahariana e l'anticiclone arabo dal deserto omonimo, quello di Mosè e di Loris d'Arabia per intenderci. Quello sahariano si spinge spesso in estate verso il nord Italia e l'Europa nord-occidentale, quello arabo si spinge spesso in estate fino a tutta l'Europa centro-orientale. Allora prima importante conclusione, in estate i roventi anticiclone ormai si spostano spesso anche fino al centro-nord dell'Europa. Ma quali aree europee sono più spesso invase dai caldi anticiclone? La risposta è in questa mappa che riporta in giallo-marrone le aree ove a 5.500 metri la pressione atmosferica è aumentata di più negli ultimi dieci anni rispetto al periodo 1950-1980. È chiaro che l'anticiclone africano invade più spesso in estate, più che nel passato, la Spagna, il nord Italia, ma anche la Francia, il Belgio, l'Olanda, Danimarca e l'ovest della Germania, mentre quello arabo invade in maniera ancora più decisa l'Europa centro-orientale. Ma da questa prima mappa è anche evidente che l'anticiclone dell'Azzorra è stato soffocato da una maggior penetrazione verso nord dei due anticiclone caldi fino all'Europa centro-settentrionale in estate. Le linee in figura sono riferite alla pressione osservata in quota intorno a 5.500 metri sull'Europa, più è alto il valore della linea, tanto più alta è la pressione. Allora potete notare ad esempio che la linea 580 si è spostata verso nord di 5-7 gradi, ossia intorno a 500-700 chilometri negli ultimi dieci anni rispetto al Trentennio 1950-1980. Ma la maggiore invadenza estiva da parte dei due anticiclone caldi ha modificato anche la circolazione sull'Europa, in particolare ha modificato la traiettoria delle fresche e piovose perturbazioni atlantiche negli ultimi dieci anni rispetto al periodo 1950-1980, come potete vedere da questa mappa. Si può notare ora che tale perturbazione viaggiano per lo più oltre 60 gradi di latitudine, quindi meno piovosità estiva, intorno a 40-50 gradi di latitudine, ma anche meno fresche a correnti atlantiche. Allora, forti di queste pregresse informazioni, vediamo più in dettaglio come sono cambiati in Italia rispetto al nord Europa a tutti quei fattori che concorrono al comfort climatico estivo, in particolare per l'estate vediamo il numero di giorni in cui vengono in media superati i 30 gradi, il numero di giorni in cui sono stati superati i 34 gradi, le temperature medie giornaliere delle acque costiere, il numero di giorni senza pioggia, il numero di ore con cielo sereno di giorno, il numero di giornate ventose nelle ore di orne. Vi dimostrerò che l'Italia ha di gran lunga un clima più gradevole rispetto al centro nord dell'Europa.